Ebram prolunga per Dybala che prende un corridoio importante, se ne va ancora Paolo Dybala che entra in ara, parte il tiro a rete! Vantaggio della Roma al diciottesimo, primo gol con la maglia gialla e rossa per Paolo Dybala. Matic, eccola la palla profonda sulla quale la difesa sbaglia, vuoto marrone, se ne va Ebram davanti al portiere Ebram, ribatte di Gregorio, poi in scivolata, Dybala, doppietta per lui, Roma 2, Monza 0. E Dybala show allo stadio olimpico. Il corner, colpo di testa, è 3 a 0, grande stacco di Bagnez che castiga di Gregorio, la Roma allunga ancora una volta. Tami Ebram, ottima torre per Dybala che può scattare in campo aperto, Dybala davanti al portiere, Dybala! Dybala, Paolo Dybala, 1 a 0 Roma al diciottesimo, la rete della Hoja, il primo gol con la maglia giallo-rossa per l'argentino sull'assist di Ebram. Lancio di Matic, ancora in verticale, Ebram sbilancia l'avversario, il 9 davanti al portiere di Gregorio, arriva Dybala in scivolata! Paolo Dybala, doppietta per lui al trentaduesimo, è già 2 a 0 Roma! Bravo a seguire l'azione sulla parata di Dybala, il più lesto è l'argentino che riesce a spingere dentro. 100 gol in Serie A Team per Paolo Dybala. Traiettoria al quattro arriva Ibanez! Che schiaccia in porta e fa 3 a 0 al sessantunesimo, Roger Ibanez! E attenzione però, perché c'è la cavalcata di Dybala, Dybala! Dybala! Sinistro all'angolivo, 1 a 0 per la Roma! Ed è così che comincia a ripagare l'amore incondizionato del popolo giallo-rosso. Prima ripartenza, primo tiro in porta, primo gol, 1 a 0 per la Roma. Adesso Matic, improvvisa palla in verticale, scavalcato marrone c'è Ibrahim, che punta la porta. Ibrahim, Di Gregorio, poi Dybala! Ancora Paolo Dybala! Sono 100 in Serie A! Prima doppietta con la Roma! E 2 a 0 sul Monza, Paolo Dybala! 26 dentro, Dybala vuole andare sul secondo pallo come a Torino. Poi si firma. Palla dentro, Ibanez! Di testa a buca di Gregorio! E come sempre, la Roma fa male anche sui calci piazzati. 3 a 0, Roger Ibanez. Deve però, per forza di cosa, allontanare questo pallone. Molto alto, Ebram la spizzata verso Dybala che si invola. Poi Paolo sta per entrare in area, Dybala! 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 Benvenuto a Roma, Paolo! Roma 1. Monza 0. Zaleski servito. Questi ha Matic in bucata, verticale verso Abram e può essere buona. Vai Dammi! Vai Dammi, 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 Dammi! �endirola, arriva, Paolo! ... Dybala! Dybala! La cross verso il colpo di testa di Roger e Bagnaz Roma 3, Monza 0 Guarda riballa contro Piero della Roma, riballa con Puglione Rete Il primo gol di riballa con la maglia giallorossa La maschera verso la Corvo Nord Poi verso la tribuna Tevere va a esultare Sotto la baglierina, vicino la baglierina sotto alla tribuna Tevere Riceve l'abbraccio di tutti i suoi compagni di squadra 2-0, ancora di bala, doppietta per lui E altro abbraccio con Cenic Ma errore ancora una volta per la difesa del Monza Vi raccontrerò tutto tra qualche istante Roma 2, Monza 0, 32esimo, torniamo a Milano Terza gol della Roma I Bagnaz ad azione da calcio d'angolo Roma 3, Monza 0, 16esimo, Milano Per serpendo, soltando la Roma, libri o gole, matri e verte Per serpendo, soltando la Roma, libri o gole, matri e verte Per serpendo, soltando la Roma, libri o gole, matri e verte